La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Caltanissetta ha arrestato e condotto in carcere un cittadino nissano per presunto sequestro di persone e maltrattamenti nei confronti della propria compagnia e convivente, ad emettere l'ordinanza il GIP del Tribunale Nisseno nel corso delle indagini preliminari su proposta della locale Procura della Repubblica. È scattato quindi il codice rosso per la vittima, una donna che avrebbe subito violenze fisiche e psicologiche da parte del convivente, come sarebbe emerso dalle indagini e dall'insieme di indizi raccolti dagli uomini della Guardia di Finanza. Un ambiente degradato, così è stato descritto tecnicamente dagli inquirenti, quello in cui vivevano i protagonisti di questa vicenda, in cui la donna sarebbe stata segregata e privata anche dei soldi, costretta dalle circostanze anche a dover vendere i propri gioielli di famiglia per darne il denaro ricavato al compagno. Sono stati gli uomini della Guardia di Finanza che, nel quadro di una più ampia attività di polizia economica o finanziaria, che hanno acquisito elementi indiziari sui reati contestati all'uomo, che sarebbero stati confermati anche da dichiarazioni rese da parte di alcuni cittadini che hanno denunciato gli episodi di violenza. L'attività investigativa svolta da subito dal nucleo di polizia economico-finanziario ha anche avuto l'ausilio delle attività tecniche di ascolto e videosorveglianza disposte d'urgenza dall'autorità giudiziaria nissena. Hanno permesso così di ritenere attendibili le informazioni delle dichiarazioni e di procedere nei confronti del convivente della donna, come prevede il codice rosso. Scattate quindi le manette per l'uomo condotto in carcere.